Film Festival, oggi il tempo si ferma per Francesco Mosera e il suo docufilm, la proiezione di Scacco al Tempo questa sera alle 21. Un evento suggellato questa mattina da un insolito scambio di biciclette. Ce lo racconta Luca Bindi. Presto la mia bici del record dell'ora di Milano al Museo della Guerra di Roveretto, è il Museo della Guerra, presta a me una bici dei bersaglieri, che del resto io ero bersagliero, anche il cappello quando ero militare. Ecco dunque lo scambio di due biciclette davvero storiche che hanno segnato il tempo, quella dei bersaglieri, epoca Grande Guerra, 1915-1918, è stata posizionata nel Museo della Bicicletta di Francesco Mosera, mentre un'altra due ruote a pedali che ha marcato una pagina indimenticabile del ciclismo, miglior prestazione sull'ora di Mosera al Vigorelli di Milano nel 1986, è stata portata al Museo Italiano della Guerra di Roveretto per una collaborazione gemellaggio tra i due musei. Dove si troverà questa bicicletta così importante? Questa verrà esposta al centro del Torione Malipiero, che è uno dei due grandi torioni del Museo della Guerra di Roveretto. Insomma, biciclette che raccontano lo scoccare del tempo, mentre stasera, argomento Film Festival a Trento al Supercinema Vittorio ore 21, ecco la pellicola su Francesco Mosera, Scacco al tempo. Così la gente potrà vedere, insomma, cosa è stato fatto in questa occasione. Non è che si ripercorre proprio tutta la storia, ma le grandi cose, i grandi avvenimenti.